cari amici di motorsport.com ciao a tutti ben ritrovati e benvenuti in questo nuovo video la formula 1 ha riacceso i motori in olanda dopo la pausa estiva e allora andiamo ad analizzare tutto quello che ha caratterizzato la domenica di zandvoort con il nostro direttore franco nunez ciao franco ben ritrovato ciao beatrice abbiamo finito il ciclo delle vacanze e la formula 1 è tornata nel pieno assolutamente è tornata nel pieno e ci ha regalato una conferma se vogliamo dirla tutta perché io partirei un po dal vincitore franco la conferma secondo me che questa mclaren può essere in questo momento la monoposto di riferimento dal punto di vista tecnico lando norris va a battere il padrone di casa verstappen lasciandolo alle sue spalle con un distacco di circa 22 secondi se non sbaglio il britannico parte dall'olanda con pole position vittoria giro veloce mette la firma sul successo che al momento del via però non sembrava poi così scontato perché ancora una volta per lui c'è stata una partenza un po a rallenti ma devo dire che questa volta il rallenti è coinvolto anche anche piastri una partenza non buona che lascia libera la strada versappen però poi norris dopo 18 giri riesce a prendere di forza il comando e non lo molla più tante volte franco hai detto che lando è veloce ma non è consapevole cioè neanche lui sa come fa essere così veloce dopo l'olanda questa consapevolezza ce l'ha oppure no sì rimane la sindrome della partenza ma credo che sia stata contagiosa anche per Oscar Piastri entrambi hanno perso una posizione al via e viene anche il dubbio che alla fin fine spesso si stia dando la colpa al pilota e quindi gli si stia scoppiando il cervello e probabilmente qualcosa nel software di partenza della McLaren non sia così perfetto come le altre squadre quindi penso che Sandor abbia messo in evidenza un aspetto ma la cosa sicuramente principale è che lando stavolta se ne è potuto fottere alla grande del fatto che non sia riuscito a partire perché dispone di una macchina talmente superiore che ha come si dice in gergo sverniciato la Red Bull di un certo Max Verstappen che in Olanda a casa sua ha sempre dominato da quando il Gran Premio è tornato nel calendario quindi c'è un dato oggettivo indiscutibile lando ha vinto finalmente secondo Gran Premio della carriera quindi ce ne sono voluti nove da Miami per vederlo tornare sul gradino più alto del podio ma credo che questo sia uno sblocco molto importante in chiave stagione. Può essere uno sblocco importante in chiave stagione perché come ti ho accennato all'inizio probabilmente la McLaren penso possa essere in questo momento la monoposto di riferimento perché il sorpasso tecnico sulla Red Bull è decisamente evidente la squadra Papaya era arrivata in Olanda con una serie di aggiornamenti volti ad attaccare la RB20 come avete anche trattato tu e Giorgio nel video di tecnica uscito nella giornata di venerdì ed evidentemente Franco l'obiettivo è stato centrato. Quali sono state secondo te? Cos'è che ha fatto la differenza in Olanda? Allora la McLaren mi sembra che sia l'unica squadra delle quattro di vertice top che porta un aggiornamento e questo appena viene messo in macchina funziona. Questo dà un grandissimo valore al lavoro che viene fatto a casa a walking ma dà un grandissimo valore anche al fatto che oggi è una partita molto che si gioca di gallerie del vento evolute e la McLaren in questo momento è sicuramente quella più nuova più evoluta nell'analisi del tappeto mobile con materiali innovativi che permettono alla squadra di Andrea Stella di andare con un modello molto vicino al suolo e questo probabilmente si ripercuote sul fatto che trovano carico aerodinamico anche sulla macchina uno a uno in pista. Un dato non poco importante e evidenzia in parallelo secondo me la difficoltà che ha in questo momento la Red Bull. Sono stufo di sentire parlare del sistema di frenata asimmetrica perché è evidente, chiaro che non è stato usato quindi mi sembra anche maldestro e in certi versi scorretto continuare a tirare fuori questa cosa. Tu sai che quando noi abbiamo il sospetto su qualcosa non ci tiriamo certo indietro nell'andarlo a raccontare mi sembra che sia una voglia di colpire una squadra che sta antipatica perché ha dominato per tantissimo tempo ma che ora sta oggettivamente soffrendo. Ecco c'è una Red Bull che squadra cinica che eravamo abituati a vedere ottenere il top dei risultati che sbaglia l'ha messa a punto della macchina in casa di Max. Delibera una macchina troppo carica da un punto di vista aerodinamico che non consente quindi a Max di rispondere agli attacchi di Norris in rettilineo e quindi mettiamo in evidenza la crescita della MCL 38 ma dobbiamo anche ricalcare il fatto che questa volta in Red Bull abbiano commesso un errore di strategia tecnica e hanno sbagliato le scelte della macchina sono in difficoltà al punto che è grave questa cosa cioè sbagliare una strategia tecnica per un team del genere Franco scusami se ti interrompo perché no è proprio il segnale che c'è qualcosa che non sta girando come vogliono a Milton Keynes io credo che l'uscita di Adrian Neway stia aprendo delle crepe importanti io ancora non sono riuscito a capire quanto la macchina estrema con il sistema di raffreddamento quadri ripartito sia una scelta di Adrian visto che Vachet comincia a parlare di forse abbiamo esagerato nello spingere un progetto troppo innovativo valeva forse la pena continuare a sviluppare la RB19 quando loro stessi alla fine dell'anno scorso dicevano c'è bisogno di una macchina nuova perché quella vettura è arrivato lo strato limit ecco mi sembra che questa sia la dimostrazione che c'è un momento di confusione moltiplicato dal fatto che Sergio Perez ha corso con una macchina con un assetto completamente diverso e al di là delle differenti prestazioni e delle differenti capacità dei due piloti di portare l'RB20 al limite la sensazione che è emersa e che in realtà la macchina migliore eh in mano ce l'avesse Sergio per cui è stato un po' un gran premio di raccolta dati come era stato l'anno scorso per la Ferrari e eh ho sentito dichiarazioni di Christian Horner nel quale nelle quali metteva in evidenza il fatto che può essere una chiave molto importante per il futuro eh e quindi mi aspetto una reazione della Red Bull già la prossima settimana a Monza però al momento si può dire che per Max questa sconfitta probabilmente pesa due volte cioè al di là di aver perso davanti al proprio popolo perché le tribune erano totalmente orange per lui anche forse la consapevolezza che questa macchina in questo momento eh secondo me sta sopravvivendo con un netto vantaggio in entrambe le classifiche quella costruttore un po' meno adesso ci arriviamo perché 30 punti si agguantano 30 punti si si prendono abbastanza secondo me velocemente però questa squadra in questo momento sta vivendo di rendita cioè di quello che è stato ottenuto nel nelle prime fasi della stagione Franco sono d'accordo la parola rendita rende l'idea e non possono permettersi eh di vivere di rendita eh guarda la fotografia è molto semplice Gran Premio in Ungheria c'è un Max che sbrocca eh via radio ne ha per tutti contesta tutto quello che sta succedendo perché probabilmente era partito nell'idea che fosse possibile vincere un Gran Premio ed è stato invece un disastro eh qui in Olanda eh era in prima fila ha fatto un miracolo in qualifica ha avuto la sensazione di poterci in qualche modo provare sfruttando la non partenza della McLaren ma poi si è dovuto rendere a una superiorità oggettiva della della McL38 e di Norris e abbiamo visto invece un pilota molto razionale cioè prendo il massimo dei punti che mi è concesso perdo qualche punto dei 78 che avevo di vantaggio ma in saccoccia ne ho ancora comunque 70 vuol dire avere praticamente la possibilità di fare due ritiri e avere ancora eh un margine in tasca che nella proiezione di nove gare eh diventa lunga per Lando Norris anche perché non credo che Norris vencerà nove gare su nove. Tra l'altro appunto come eh abbiamo accennato prima nella classifica piloti il divario è 70 punti in quello costruttore adesso siamo a 30 quindi la speranza per la conquista di almeno un titolo per la McLaren pian pianino si sta concretizzando secondo te? Non è pian pianino io credo che loro ci stiano ci stiano puntando molto molto seriamente eh la cosa strana che mi colpisce un pochino è il fatto che eh dovrebbero essere capaci per mettere in difficoltà Max anche nel piloti di portare Piastri a essere in prima fila in griglia cosa che invece ancora continua a non succedere piccoli errori ma che poi vengono pagati in maniera pesante e per uscire dai dubbi di posizione data e restituita per me hanno tenuto fuori troppo anche Piastri in questo Gran Premio e probabilmente hanno minato a livello strategico come scelta fatta a freddo la possibilità di portarlo a conquistare qualche punto in più io credo che la macchina meritasse la possibilità di attaccare Carlo Sainz eh Charles Leclerc piuttosto che anche Max Verstappen ma è stata una scelta eh io devo dire a questo punto politica non strategico o sportiva quindi eh cosa significa Franco una scelta politica che vuol dire che eh hanno in qualche modo voluto eh mettere in evidenza che il pilota di riferimento oggi è Lando Norris e non si discute eh Oscar deve dimostrare continuità in quello che può essere la prestazione e devo dire eh non si è lamentato quindi eh penso che abbia accettato un ruolo in questa fase eh dove lui è il giovane eh della comitiva quindi quello che può ancora farsi esperienza e eh questo credo che possa dare molta forza alla McLaren nelle prossime nove gare eh l'obiettivo però deve essere quello di andare a conquistare dei primi e secondi perché sennò diventa veramente molto edifici. E come hai detto tu bene Oscar Piastri chiude giù dal podio in quarta posizione e viene tenuto dietro in maniera inaspettata mi permetto di di aggiungere da Charles Leclerc che chiude in terza posizione con la sua Ferrari SF ventiquattro numero sedici un risultato che non era diciamo nei piani delle aspettative della scuderia soprattutto in una pista un po' ostica come quella eh di Zandworth soprattutto al netto dei risultati che erano stati ottenuti in qualifica Franco. Buona anche mi permetto di aggiungerti la gara di Carlos perché nonostante praticamente lui non abbia girato nelle sessioni di prove libere è riuscito comunque da un undicesima posizione a risalire in quinta piazza. Franco. Ma una Ferrari a due volti eh disastrosa nelle prove libere eh provo a metterci un carico. Eh dalle mie fonti risulta che eh ci fosse un fondo che doveva arrivare in Olanda e al momento in cui dovevano spedirlo hanno scoperto che c'era un errore di costruzione per cui quel pezzo non è mai partito. È tornato è rimasto a casa. È rimasto a casa per le modifiche e lo vedremo invece sicuramente a Monza. Oggi eh dove i i livelli di prestazione sono difficilmente misurabili e variano se piove, se è asciutto, se c'è vento, se cala o aumenta eh la temperatura esterna piuttosto che quella dell'asfalto. Beh eh abbiamo visto una Ferrari forse depressa dal fatto che non arrivava quello che loro eh si aspettavano e quindi ha creato un contraccolpo negativo di cui nessuno ha parlato eh quindi eh ufficialmente non se ne sa niente. Poi lavorando eh indipendentemente dal fatto che abbiamo avuto tre turni di prove libere eh difficili condizionati dall'acqua e dall'incidente di Sargent eh una Ferrari che è andata in qualifica con pochi dati e molto in difficoltà. aggiungo Sainz di solito è molto utile nella delibera dell'assetto e eh i dati di Carlos evidentemente sono mancati nel delineare una Ferrari competitiva. Nella notte fra sabato e domenica eh a casa hanno lavorato e per quello che era possibile eh mettere mano sulle macchine che sono in parco chiuso ecco che è venuta fuori una Ferrari eh che si è riallineata a quelle che erano le aspettative eh pre Gran Premio di Olanda con un Leclerc eh alle prese con un fastidiosissimo sovrasterzo che certamente non gli faceva andare la rossa dove lui avrebbe voluto ma che è riuscito in maniera straordinaria a tenersi dietro Oscar Piastri che gli è arrivato in in coda un paio di volte con il DRS aperto e si è dovuto arrendere a una superiorità del Monegasco. Io credo che la gara olandese abbia depresso nelle prove eh la comitiva ma abbia riacceso un grande entusiasmo dopo la corsa. Eh Charles ha bisogno di queste gare nelle quali può dimostrare più che agli altri eh a se stesso di essere pilota integro in grado di ottenere il massimo. Devo dire che ha tirato fuori sia lui che eh Carlo Sainz il massimo di quello che la rossa era in grado di dare in questo weekend. Ora l'aspettativa viene trasferita a Monza pista teoricamente più adatta alle caratteristiche della Ferrari pista che appunto eh vedrà debutare eh l'ultima evoluzione del fondo quella che teoricamente dovrebbe risolvere i problemi di saltellamento eh annullando gli effetti porpoising e quindi ci sarà una grandissima aspettativa. Io ti ho detto che è stato un po' di inaspettato eh anche per te lo è stato? Cioè tu ti aspettavi un risultato peggiore della Ferrari questo fine settimana in Olanda? Io pensavo un sesto posto. Un sesto posto. Sì sì il podio eh Charles lo ha definito miracolo e credo che alla fine alla resa dei conti possiamo leggerlo come un miracolo. L'aspetto interessante è che una volta tanto la squadra ha dato segno di solidità. Eccellente partenza. Vero. Di tutti e due. Eh strategia mai sbagliata. Utilizzo ideale delle gomme. Un undercut funzionato per bene. Doppio. È fantastico. Sono stati uccellati in due quindi eh è stato sicuramente eh un un gran premio una gara che ha testimoniato come in una condizione psicologica molto difficile eh si sia poi ho ottenuto il massimo. Tra l'altro eh Carlos Sainz è arrivato in pista in Olanda per la prima volta no dopo l'annuncio del della sua futura avventura in Williams il prossimo anno. Tu l'hai percepito un po' più rilassato, un po' più tranquillo? Era davvero l'unica possibilità per lui il prossimo anno Franco? Allora che fosse rilassato non c'è ombra di dubbio ma è sembrata una persona che si è tolta un grosso peso dallo sto. Un peso. Che sia la scelta giusta sinceramente Beatrice eh io sento parlare di una Williams con la grande storia sì sì eh si guarda la storia ci mancherebbe altro. Eh. Qui abbiamo eh una macchina che è stata cacciata fuori perché alle verifiche tecniche è risultata da tre millimetri più larga nella parte anteriore eh del del fondo eh non si misura più con il metro eh si misura con le scansioni elettroniche quindi è un errore non grave gravissimo e eh testimonia come questa squadra ancora la quadra per fare un salto di qualità non ce l'abbia. È vero che il pacchetto aerodinamico che è stato portato di cui ha beneficiato in particolare Albon visto che il signor Logan la macchina l'ha demolita nelle FP3 eh ha permesso un salto di qualità però qui vediamo sempre degli andamenti che sono sinusoidali e la Formula Uno di oggi non si può permettere eh questi orientamenti ha bisogno di un andamento che sia in una crescita costante quindi fossi Carlos sarei un attimo un po' più preoccupato di quello che racconta. Se da una parte era più rilassato perché finalmente la situazione contrattuale era stata messa a punto dall'altra adesso inizia un po' la preoccupazione di quello che sarà poi l'avventura in un progetto che difficilmente potrebbe portarlo nelle prime posizioni. Eh a proposito di posizioni Franco se andiamo a guardare l'ordine di arrivo vediamo le due Mercedes occupare la settima e l'ottava posizione con Russell e Hamilton. Tu hai definito nel tuo commento eh post gara una domenica sbagliata per la Mercedes perché? Perché sicuramente una macchina che vince e fa doppietta a Spa-Francorchamps al di là del chilo e mezzo eh di benzina che è costato poi la vittoria a Russell beh era la macchina eh che ha lasciato ha iniziato le vacanze estive come punto di riferimento e non può cadere alla gara successiva al settimo ottavo posto. Io temo e credo che eh hanno provato a utilizzare il fondo che a Spa avevano bocciato e paghino eh quella scelta convinti di aver risolto il problema per cui eh alla resa dei conti eh eh la novità ed è di nuovo una novità che non funziona come ha problemi in questo momento la Red Bull come ha problemi la Ferrari e non la McLaren eh ha portato le le frecce nero-argento all'improvviso a essere la quarta forza della comitiva. Basta un piccolo errore, una scelta non congrua e subito se ne pagano in maniera moltiplicata le conseguenze. Devo dire che all'inizio della gara eh la rimonta di Lewis era stata interessante perché partiva dalla quindicesima posizione dopo le tre posizioni di penalità. È risalito praticamente a essere in coda a Russell e questo testimonia che eh il prossimo ferrarista ha una motivazione per continuare la sua carriera da vecchietto eh in modo molto interessante. Restiamo un attimo in tema Mercedes Franco perché adesso ci addentreremo in quella settimana che per molti tifosi è considerato un po' la settimana santa no? Cioè quella relativa al Gran Premio d'Italia a Monza e proprio a Monza Franco nella giornata di venerdì sicuramente tutti gli occhi di tifosi saranno puntati su un certo Chimi Antonelli. Beh è un momento che gli italiani aspettano da tantissimi anni. Finalmente abbiamo un talento in grado di entrare nel mondo della Formula Uno dalla porta principale e non dalla solita squadra in fondo alla griglia. È una situazione che eh diciamo in parallelo aveva vissuto Lewis Hamilton quando approdò la McLaren accanto a Fernando Alonso eh inizia con un una preparazione che è stata fatta al di fuori di quello che è il campionato di Formula Due dove comunque ha vinto due gare eh che eh lo ha molto avvicinato al respirare l'aria ufficiale eh a Spa lui ha girato due giorni dopo il Gran Premio dove appunto la Mercedes aveva vinto la gara e eh si era trovato in un box che non era quello del team eh eh test team diretto da un italiano ricchi eh Musconi ma c'era ancora l'allestimento del Gran Premio c'erano le scritte Lewis Hamilton e lui eh è entrato a lavorare con Bono l'ingegnere che ha rifiutato l'offerta Ferrari per seguire Lewis quindi lascia il talento che ha seguito e inizia una nuova avventura con il ragazzino italiano ecco questo credo sia un po' il segnale nel quale eh all'interno del team Mercedes si può leggere la fiducia con cui eh Kimi diciottenne da domenica da ieri da ieri può eh guardare al Gran Premio d'Italia come primo approccio nel mondo della Formula Uno. Se volevano creargli un'entrata eh soft più difficile non gliela potevano inventare perché è la pista con il minor carico aerodinamico e normalmente eh non sono abituati i venti piloti ad andare in pista in quel in quella situazione di carico e poi ci sarà tutta ovviamente la pressione mediatica di un'Italia che sarà seguire i i primi giri di Kimi. È vero Franco sono pienamente d'accordo eh tornando un attimo alla cronaca della corsa eh dopo le due Mercedes troviamo in nona posizione Gasly che porta dei punti importanti a una squadra l'Alpine appunto che è in una fase diciamo di ristrutturazione cioè ci sono stati anche degli annunci che cosa sta succedendo adesso in Alpine Franco. Una grandissima confusione secondo me eh stanno cercando di rimettere ordine l'arrivo di Oaks come team principal è una segnale estremamente positivo io non ritenevo possibile eh sapendo che la eh coabitazione fra francesi e inglesi storicamente si può vedere non è mai stata facile pensare che potesse esserci un francese che comandasse Enstone eh era un qualcosa che in qualche modo stonava così come era impensabile l'idea che dovesse essere un inglese che comandasse virisci a Tion. Lì devono essere due entità che trovano una figura esterna e in questo caso è Flavio Briatore che questo lavoro nel passato lo ha fatto più che bene vincendo dei titoli mondiali ma eh c'è l'esigenza di rimettere delle delle eh figure, tasselli, puzzle, ciascuno al proprio posto. Quindi io che eh qualcuno possa pensare di vedere un Alpine marchio che rappresenta il gruppo Renault correre nel 26 con un motore Mercedes boh io continuo. È vero che eh con il budget cap lo sviluppo di un motore Renault costa 100 milioni l'anno e andare al mercato al supermercato della Formula Uno e comprare il motore Mercedes ne costa solo 17 milioni però la Formula Uno è anche altro cioè rappresenta un marchio rappresenta una storia quindi eh credo che siamo a un punto di svolta che non è ancora molto chiaro su dove si andrà a parare eh De Meo ha detto che non vuole vendere la squadra. Briatore eh al nostro Roberto Chinchero lo ha ribadito in maniera molto molto chiara in questo weekend però non è la prima volta che si dicono cose date per scolpite nella pietra e poi la storia insegna che prendono un'altra piega. A chiudere la top ten nel Gran Premio d'Olanda ci ha pensato Fernando Alonso con la Stone Martin che va a rubare nelle fasi finale della corsa il punticino all'ass di Nick Hulkenberg e in conclusione Franco direi che ne abbiamo già accennato un po' il tema eh prima ma a far parlare durante questo fine settimana non è stata solo la corsa di domenica ma anche un fatto che ha caratterizzato la terza sessione delle prove libere perché Sergeant è andato a demolire la sua Williams aggiornata tra l'altro e eh il team principal avrebbe chiesto a Toto Wolf se Mick Schumacher poteva essere disponibile già dal Gran Premio d'Italia. Come ha riportato il nostro Roberto Chinchero il team principal della Williams aveva chiesto anche Liam Lawson a Delmut Marco ma Marco diciamo che non si è mostrato molto favorevole all'operazione. Ha cambiato idea e ha lasciato una finestra aperta eh la paura è una sola se eh uno dei piloti del sistema Red Bull avesse bisogno di essere sostituito non ci sarebbe eh l'uomo giusto che sarebbe Liam quindi eh la riserva credo che sia solo quella l'idea invece di di metterlo in macchina e farlo allenare eh per un ritorno da pilota titolare l'anno prossimo penso che sia un un discorso che stia in qualche modo venendo avanti e mi viene da ridere eh Beatrice perché anche qui rischia di venire fuori un derby eh Toto Wolf Christian Horner eh io credo che da un punto di vista mediatico il ritorno di Mick Schumacher alla Formula 1 farebbe molto più di quello che sia l'anticipato debutto di Lawson eh sono curioso mi piacerebbe vedere Mick impegnato su una macchina eh e vedere che cosa è in grado di fare al di là di quello che era eh l'esperienza in AS dove era stato devo dire abbastanza massacrato da Gunther Steiner all'epoca che non l'aveva in grande simpatia. È vero però adesso vediamo come si evolveranno le cose perché sì noi questo è un report dedicato all'Olanda ma oramai come ti ho detto prima entriamo in quella che per tutti i tifosi è considerata la settimana santa della Formula 1. L'aspetto curioso è che eh avrebbe pagato i tredici milioni di risarcimento all'Uralcali per la mancata sponsorizzazione di qualche anno fa ma le macchine sono ferme eh ancora a Zantwoord perché fintanto che con le banche chiuse non si è visto eh arrivare il pagamento eh c'è un ufficiale giudiziario olandese che ha bloccato tutto quindi eh la settimana santa dell'AS inizia con un rallentamento questo è un dato di fatto sono sicuro che si sblocca la situazione e vedremo le WF24 regolarmente nel paddock di Monza. Cosa ti aspetti per Monza Franco? Dai ipotizziamo cosa ti aspetti? Non è facile fare una previsione perché come abbiamo avuto modo di vedere a ogni gara eh per le caratteristiche della pista per le condizioni della pista quindi temperatura situazioni eh cambia tutto il punto di riferimento è che penso eh una McLaren in grado di far valere la sua supremazia tecnica mi aspetto una reazione Red Bull se ha raccolto bene i dati che hanno cercato di mettere insieme ma soprattutto attenzione eh la Ferrari deve battere un colpo perché qui da una gara a quell'altra ci promettono la prossima si riparte ci siamo diciamo che la triplice Monza Baku Singapore dovrebbe essere quella che eh rilancia le sorti del cavallino non dimentichiamoci che poco tempo fa era la seconda forza che inseguiva la Red Bull ora sembra un tempo lontanissimo sembra un'era geologica la Red Bull non è più la macchina di riferimento la McLaren eh in questo momento è indiscutibilmente la macchina universale che va bene su ogni circuito e abbiamo avuto una Mercedes capace di vincere quindi quelli che sono i riferimenti certi della prima parte dell'anno sono completamente saltati e credo che ogni squadra a questo punto debba mettere il puntello su quello che sarà l'orientamento delle prossime nove gare quindi Monza diventa importante e strategica e nell'attesa di vedere che cosa allora ci riserverà il Gran Premio d'Italia caro Franco tu tra l'altro sarai lì quindi avrai modo anche poi di percepire direttamente di trasmettere direttamente quello che si respira in autodromo io ringrazio i nostri amici ovviamente per averci seguito se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale youtube di motorsport.com attivate la campanella delle notifiche seguiteci anche sui nostri canali social perché ovviamente motorsport.com e ovunque non vi abbandona mai andremo ad approfondire ulteriormente tutti i temi che hanno caratterizzato il Gran Premio d'Olanda Franco nella nostra live di questa sera alle 18 e 30 lo faremo con i nostri ospiti quindi Franco ci saranno anche gli inviati di ritorno da Zambord quindi magari ci portano qualche notizia fresca e allora cari amici vi do appuntamento a questa sera ciao Franco a stasera ciao a tutti ciao a tutti